La misericordia di Dio In sintonia con il cuore di Dio. Questa è la vera preghiera. In sintonia con la misericordia di Dio, con il cuore misericordioso. Chi non ama il fratello non prega seriamente. Qualcuno può dire, in succo di odio non si può pregare. In succo di indifferenza non si può pregare. La preghiera soltanto si dà in spirito di amore. Perché? Chi non ama fa finta di pregare. O lui crede che prega, ma non prega. Perché manca proprio lo spirito che è l'amore. E con questo spirito la preghiera è feconda, perché andiamo con umiltà davanti a Dio a pregare per tutti. Invece il fariseo pregava in modo superbo. Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come coloro peccatori. Io sono giusto, faccio sempre. Questa non è preghiera. Questo è guardarsi allo specchio. Nella realtà propria no. Guardarsi allo specchio, truccato per la superbia. Ciao. 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 Grazie a tutti.